Ciao a tutti dal vostro Zcastle, grande occasione oggi perché ci troviamo con Michele Rec, Zero Calcare e finalmente grazie all'uscita della seconda parte di Macerie Prime, Macerie Prime sei mesi dopo, abbiamo veramente la fortuna e il piacere di incontrarti per fare questa breve intervista e questa breve chiacchierata. Sei praticamente all'inizio del tour. Allora, finalmente è uscita la seconda parte, l'abbiamo attesa tanto perché il cliffhanger di Macerie Prime, la prima parte era bello intenso. La storia che hai raccontato fotografa una situazione decisamente seria e anche un po' drammatica di quella che è la nostra Italia, la nostra condizione attualmente e nel finale mi è sembrato quasi che ti stessi togliendo veramente un peso dallo stomaco. Come sta Zero Calcare adesso? Allora, in realtà questo libro qua che è un pochetto un po' più triste forse degli altri libri ma perché in verità sta, viene al termine dei tre anni comunque in cui ho effettivamente un po' affaticato negli ultimi anni. Ho capito un po' come riuscire a fare stare in equilibrio questa cosa dei prometti con la vita mia, con una serie di bilanci pure sulle scelte che ho fatto negli ultimi anni eccetera. Quindi in verità è un libro che mi è servito a tirare un po' fuori tutta sta fatica degli ultimi tre anni. Sta fatica sta pure a parte di poter capire quello da fare nella vita proprio eccetera. E quindi come sto? Sto più sereno di come sono stato negli ultimi tre anni e mi sembra di averci un lavoro comunque, qualcosa che mi ha scontato perdente. No, anzi si ricollega perfettamente al libro. E sto invece indietro su tutte le altre cose. Il libro parla dei macerie e per molti dei miei amici sono macerie lavorative, per io ho le macerie invece magari emotive. Però insomma così, una prova, andavanti. Sapete come va? La serie prima ci mostra due generazioni a confronto. Quella mia, nostra, degli ultra trentenni che a un certo punto sono cresciuti con un sogno e poi sono stati trascinati violentemente a terra e gli hanno detto qualcuno guarda che non è più così, c'era crisi, non si possono più fare certe cose. E poi c'è quello degli abitanti delle macerie che in realtà non possono essere traditi perché nessuno gli ha promesso proprio niente a questi. La verità è, chi è che sta peggio dei due se non tre? Non lo so, nel senso che la nostra è una generazione che ha un sacco di aspettative tradite. Effettivamente, quegli altri invece, tutto sommato, non avendo mai avuto nessuno che gli promettesse nulla non hanno mai sopportato questo tradimento. Da un lato ovviamente è una cosa che è molto triste, quando vedo i ragazzini in qualche modo a dieci anni già sono soffresciuti all'interno della retorica della crisi e quindi già credono che finita la scuola dovranno baccagliare anche soltanto per arrivare alla fine del mese, non c'hanno nessun tipo di prospettiva come ci potevo avere io da ragazzino, un po' mi mette tristezza, è evidente che è avvilente. Al tempo stesso magari invece questa roba ti dà più gli strumenti per affrontare poi la vita e il futuro che per me mi sembra invece noi non è che questi strumenti ce li abbiamo avuti tanto. Una corazza, un'armatura, qualcosa del genere. Poi penso che questa roba si vedrà alla prova dei fatti, ma vediamo come gli va a finire. Puoi dirlo farlo. Tornando un attimo un po' più in generale poi a quello che è la tua opera, i tuoi volumi sono arrivati ma l'ho visto proprio anche con i miei occhi anche nelle librerie di persone che normalmente non leggono i fumetti. E questa è una cosa anche molto importante ma considerando l'umiltà, l'onestà intellettuale che vediamo, riscontriamo ogni volta che ti incontriamo anche con la tua disponibilità non solo nel leggere i tuoi fumetti. Come ti fa sentire questa consapevolezza? Vediamo le tue interviste, vediamo però anche che ogni tua opera poi coinvolge sociologi, giornalisti, opinionisti, critici, eccetera. Non lo so, in questo mondo in cui c'è anche un po' il... sta arrivando in Italia, ormai è già arrivato in quest'ottica un po' del fumettista, rock star, eccetera. Tu come ti rapporti? Il fatto che di te parlano persone che magari non volevi nemmeno raggiungere, ecco. Non lo so, mi fa molto strano, penso che è simbolo di varie cose. Allora, io sicuramente sono stato molto fortunato di uno dei motivi per cui poi io riesco a campare dei fumetti e altri no. Non è tanto una questione dei meriti necessariamente, ma il fatto che io ho imbroccato in un certo momento una tematica e un tipo di attenzione anche mediatica che ha fatto sì che poi quando esce una cosa mia appunto ci stanno giornalisti che ne parlano, cioè insomma tutto un mondo che dà attenzione a questa cosa qua e che diciamo c'è anche una grossa dose di fortuna e che ho beccato il momento giusto in cui nessuno parlava di un certo tipo di cosa, nessuno faceva fumetti e quindi così. Poi tutto il fatto appunto, sociologi e quant'altro, io credo che questo sia il segno del fatto che in Italia ci stanno tante persone che parlano di quello che gli sta intorno e di quello che succede in questo paese, perché se no io penso di non avere un... Cioè a me per esempio mi mancano gli intellettuali nel senso buono, nel senso brutto in cui... Non gli snobbano! Però qualcuno che ti legge la realtà e che te la sa, ti sa dare un punto di vista diverso su quello che c'è intorno, degli spunti anche originali per leggere la realtà che ti sta intorno, diverso dalla lettura diciamo mainstream in generale. Questa cosa qua a me ogni tanto me la collano a me, ma che è una cosa che evidentemente io non sono in grado di fare, nel senso che io sono uno che invece manca in una figura che faccia una cosa del genere e che magari poi io posso citare nelle interviste e nei fumetti. E secondo me l'assenza di queste figure qua fa sì che poi se uno parla di quello che succede a giovani, come posso fare io senza nessuno strumento di fatto se non quello che vedo quando c'è intorno, poi viene ripreso e gli viene da attenzione. Però secondo me ci sarebbe proprio bisogno che lo facciano più persone e persone con più strumenti di quelli che ci fossero io. Beh, non vale. Quindi parliamo della questione kurda. Ho incontrato persone che non avevano la più pallida idea di cosa fosse il Kurdistan, di cosa fosse Kobane, che ha sentito sempre parlare di ISIS, ma non ha mai sentito parlare di Daesh, per esempio. Anche se poi il termine è stato utilizzato anche da personalità politiche, di spicco eccetera, e questa accezione negativa della parola dello Stato islamico, della definizione dello Stato islamico. Serviva veramente un fumetto di zero calcare per far conoscere alle persone queste cose, o meglio, per renderle fruibili a tutti? Anche là serviva, boh, no, nel senso che in realtà sarebbe bastato che i giornalisti facevano il giornalismo, probabilmente. Nel senso che in verità il problema di quella roba rispetto all'informazione, rispetto a Daesh, ma anche rispetto a quello che succede in generale lì, è che ci va poca gente nei giornalisti. Sì, perché poi spesso chi va lì per grossi gruppi editoriali magari va un po' sul campo, va in albergo, nella città, non so, tipo in Iraq vanno a Erbil, stanno in albergo, ricevono i dispacci militari cooperativi, raccontano quello che leggono sui dispacci, però a parte che è un'informazione comunque molto fredda, perché è qualcosa che non ho mai sentito e poi comunque al di là di questo è un'informazione che è sempre super parziale, super incompleta, eccetera. Quindi quello che ha secondo me il company calling, ma non è perché siamo non io da solo, ma tutto quello che era nel movimento dei solidarietà con la resistenza kurda che si è alternato andando lì a staffetta in quel territorio, è che è riuscito a raccontare quello che vedeva con i propri occhi, quello che succedeva lì per lì. Io pare questa cosa l'ho raccontata in un fumetto, altri hanno fatto dei reportage magari su internet o su delle cose, però di andare sul campo e quella roba la fanno, non è che la fa tanta gente. A questa domanda sentiti libero di rispondere, oppure no, perché a me piace molto, però capisco che può essere anche un po' troppo personale. Non vorrei realmente soffermarmi sull'attivismo sociale, politico, eccetera, però è evidente quanto in tutte le tue opere, ma in tutto quello che fai, tu ci tieni particolarmente a rispettare quella che è la tua appartenenza, quindi il mondo di cui fai parte, quindi i centri sociali, e tutto quello che sta attorno e che gravita attorno a questo mondo. Eppure però, nonostante tutto questo impegno genuino e questa anche coerenza, come abbiamo visto su Macerie Prime, sei mesi dopo, basta una parola travisata e ti si rivoltano contro. Ma allora la paura è, ma altro che tradire, non ti senti tu magari tradito delle volte, visto che con tutta questa coerenza qua basta veramente un'inezia, una stupidaggine, una cazzata per scatenare tutta la macchina, delle polemiche, perché poi il personaggio ovviamente pubblico le attira come un magnete. Sì, basta poco ed è estremamente frustrante. Al tempo stesso però io se faccio un bilancio degli ultimi sette anni della vita mia, io sono molto contento di aver avuto questi talebani rompi coglioni intorno, perché tutto sommato questa cosa qua è vero che magari lì per lì può essere qualcosa che mi avvelena e che mi fa robbiare, perché dicevo un po' sbagliare una volta e già dica che cazzo, eccetera. Però in realtà è qualcosa che comunque mi ha consentito sempre di tenere la barra dritta. Io negli ultimi anni comunque ho avuto un numero di stimoli e depressioni addosso veramente di ogni tipo economico, commerciale, eccetera. E se non avessi avuto comunque sempre qualcuno che anche in maniera cagazzo e petulante a ogni scelta che facevo non mi sindacava addosso e non mi parlava addosso, magari io rischiavo di perdere la bussola. Questa cosa qua ha fatto sì che comunque quantomeno media tra le versioni esterne e invece le vestali della purezza dall'altra parte, questa cosa a me comunque mi ha consentito di rimanere almeno sulla strada mia e di non perdermi completamente. Quindi in realtà io tutto sommato sono anche grato a chi manca capo il cazzo negli anni. Complimenti! Complimenti perché tu sei riuscito a trasformare l'unica roba che fa andare fuori di testa chiunque in una forza. Sì, però è vero, ma perché io parto da un presupposto che io sono, cioè io vengo da quel mondo là e io stesso sono in talebano in cui non è là. Nel senso quella roba ogni volta che qualcosa mi tocca e quando mi dicono qualcosa e mi fa arrabbiare, in realtà mi fa arrabbiare perché comunque tocca ogni merito scoperto, qualcosa che comunque mi appartiene. Senti ma parliamo un secondo di musica, poi arriviamo proprio all'ultima domanda. Ascolti sempre i Doug Kennedys e tutto il resto del punk, dell'harcore, eccetera, eccetera. No, perché, scherzi a parte, mi piacerebbe sapere se in realtà c'è stata una colonna sonora particolare nella stesura di entrambi i libri, se c'è qualcosa che ti ha accompagnato, qualche riferimento particolare. Poi, visto che tu hai un'identità musicale definita, a volte hai anche detto radicata, perché effettivamente hai detto che ti ascolti sempre a tanti gruppi di quando eri Pischello fondamentalmente, adesso che si parla tanto di tutta sta roba del trap, eccetera, c'è chi ha detto che sono i nuovi punk, che è il nuovo movimento Dada, che è questo, che è quell'altro. Ma, da buon fruitore del caro vecchio punk, cosa dici? Quindi, influenze e cosa dici di questa nuova tendenza? Allora, influenze è sempre un sacco, in realtà, con un po' di disegno alcune cose si vedono proprio, cioè, all'inizio dei macerie prime ci sta un concerto decorando il fame, quindi, in qualche modo, in verità, un sacco di cose che ho disegnato, sono venute anche dalle suggestioni di due dischi che ho scopato un sacco durante la settatura, che sono tre volte dieci degli ultimi, che è un gruppo punk romano, e, in realtà, il gruppo da solista, cioè l'album solista di uno degli ultimi, che si chiama Pazza, e che ha fatto questo disco in cui, diciamo che una cosa che accomuna questi due dischi è che sono dischi di persone che fanno punk da un sacco di anni e che sono cresciuti e raccontano un po' quello che sono le difficoltà, cioè, le tematiche solite del punk, però, aggiornandole man mano che crescono, che è qualcosa che somiglia molto all'operazione che ho fatto con Macerini, quindi mi identificavo molto in quel tipo di cosa. Rispetto alla trap e tutto il resto, cioè, nel senso che è ovvio che a me quella musica non mi appartiene, cioè, io mi sento il punk, a me non mi appartiene quasi niente, eh, vabbè, ok, ma quella roba è evidente. Sovvecchio io, evidentemente, io non ci trovo nulla di simile al punk, in verità, dentro molte di quelle cose, dentro la maggior parte di quelle cose, però penso pure che non ci devo trovare qualcosa io, io sono 34 anni e non è evidentemente una musica pensata per me, eccetera, se ci trovano dentro qualcosa i pischelli, è giusto che i pischelli si facciano, si ascoltino la loro musica, si suonano la loro musica, è giusto così, cioè, non mi vorrei mai trasformare in mio padre, che cagava il cazzo, perché non mi ascoltavo De Gregori, quindi, insomma, mi fa orrore quel ruolo. A tua madre piacevano i gruppi che ascoltavi? No, non li decifra proprio. Però devo dire che, in verità, c'è un gruppo romano, io non so niente di loro, non li conosco, non so niente, che si chiamano gli H501, che mi è capitato di sentire, che fa una musica che evidentemente non è il tipo di musica mia, però che sono pischelli molto giovani, di Borgata Pinocchio, quindi, di una zona superperiferica di Roma, e che ho sentito tre pezzi loro su YouTube, e sono tre pezzi che, al di là del fatto che raccontano qualcosa che mi sembra che racconta molto bene Roma, e che pochi altri raccontano così bene quel sentimento dei quartieri, eccetera, e se li vedi, sono i pischelli che stanno a Roma, l'allaga, i pischelli guatti, i soldi, il doppio taglio, la tuta, eccetera, e mi hanno stupito tantissimo, perché in tre pezzi, delle tematiche varie, anche delle tematiche in cui si parla di donne, eccetera, non ci hanno mai infilato una roba sessista, mai infilato una roba omofoba, manco a parole, quelle parole che si dicono così a Roma, che magari non vogliono di nulla, però che si usano facilmente, però c'è un mignota, così, eccetera, sono stati super bravi su questo punto, ma poi ho pensato a mazzo, certo che se questi ragazzini qua, super giovani, senza nessun costrutto politico particolare, riescono a raccontare in maniera così diretta, a questa città, senza ricorrere a tutto l'armamentario, dei stereotipi sessisti, eccetera, forse vorrei dire che c'è una speranza per questa città, che va al di là dei gruppi più o meno intellettuali, quindi ero molto contento di questa cosa. Bene, bene, hai già affermato più volte, mentre abbiamo sentito dire veramente più volte, di volerti prendere una pausa dei libri, di voler iniziare un percorso nell'animazione, quindi proprio con i cartoni animati, significherebbe per te iniziare qualcosa quasi da zero. Questa è una cosa che immagino tu ne sia consapevole. Vorrei chiederti, primo è, ma non ti spaventa questa cosa? Cioè, dover reiniziare tutto quanto con tutti gli accolli, le ansie, tutto quello che giustamente chiunque potrebbe provare. e secondo battuta, che cosa ti piace adesso a livello di animazione? Quali sono eventualmente dei modelli che possono attrarti in questo momento? Allora, mi fa paura, devo dire che dal punto di vista professionale, economico, mi sento tutto sommato abbastanza tranquillo, nel senso che io penso di poter passare due anni a studiare adesso, senza l'ansia che non riesco a pagare il mutuo, o cose del genere, e quindi tutto sommato, penso che se c'è un momento in cui mi posso prendere, Giovanni, è questo qua, prima che si sgonfi tutta la porra, eccetera, è ora. E in realtà, l'idea di mettermi a scuola, proprio, cioè di imparare qualcosa da zero, in realtà la trovo, cioè mi piace, è proprio una cosa che mi va di fa, perché negli ultimi anni, quando faccio fumetti, non c'ho più avuto il tempo di sperimentare nulla, perché stavo sempre sotto consegno, eccetera, invece l'idea di imparare qualcosa di nuovo, mi piace molto in verità, l'unica cosa terribile, che mi sono messo a cercare su internet i corsi e le cose, sono tutti per gente di meno di 25 anni, cioè c'è proprio il limite dell'età a 25 anni, questa roba mi ha ucciso, mi ha proprio fatto il fuoricorso, e è orribile proprio, e se penso alle cose che mi piacciono, in realtà la mia animazione penso che, a parte ovviamente i sims, tutte queste cose, mi è venuta una serie francese, che si chiama Le Lascasse, che è una serie che si trova pure su YouTube, si scrive Lascasse, ed è una striscia di un paio di minuti, che facevano penso ogni sera, un paio di sera settimana, così, sui pischelli di banlieue francesi, tra i rap, pischelli di periferia, seconda generazione, eccetera, erano strisce molto semplici, però al tempo stesso disegnate molto bene, e molto divertenti, che parlavano come parla la gente normale, quindi non edulcorate per i ragazzini, era una roba per tutti, insomma, e quella roba là, quando la vedevo, pensavo che era esattamente quello che avrei voluto fare, mi è capitato di riguardarla qualche mese fa, dopo un paio d'anni, ma non ci facevo caso, e mi è proprio ritornata la fissa, che mi piacerebbe proprio fare qualcosa di simile. Bene, noi ringraziamo Sero Calcare, che è stato con noi, veramente ti auguriamo il meglio, non solo per questo bellissimo libro, ma anche per realizzare i tuoi sogni, perché ho come la sensazione in questo momento, è una domanda, ma te la metto un po' a livello di affermazione, dopo tanti libri, tante partecipazioni, tante collaborazioni, tante presentazioni, eccetera, mi sembra di vedere un Sero Calcare particolarmente felice. Felice? Felice. Porco due. Soprattutto con quel sorriso, alla fine, di Macerie Prima e sei mesi dopo, che è particolarmente bello. È perché bleffo benissimo. Grazie a Sero Calcare, grazie mille. Ciao ragazzi, ciao a tutti.